Perché Milano può essere una grande opportunità per la Brexit e perché la Brexit può essere una grande opportunità per Milano? Perché Milano ha tutte le caratteristiche per attirare questi istituti finanziari che possono venire via da Londra, sicuramente è una partita complessa, ci sono diverse città europee che mirano ad avere queste banche, Milano però se la può giocare, è l'unica città italiana che se la può giocare e sicuramente potrebbe essere una cosa molto utile per il Paese. Io penso che sia una necessità del Governo nazionale, del Governo locale e della Regione cercare di mettere insieme più forze possibili per riuscire a far sì che questa spinta che viene anche dalla società civile, abbiamo visto anche in un convegno di 15 giorni fa, possa diventare realtà. In questi pochi mesi si deve cercare per sì che nasca un piano per poter far diventare Milano sempre più competitiva in questa partita. dovrebbe essere un piano che tiene conto del fatto che si possono inserire iniziative legislative, ad esempio alcune norme che possano ancora più favorire questa forza di Milano e iniziative sia di Marche che di attrazione internazionale proprio per far sì che queste banche si possano spostarviare. L'elemento turistico è un elemento di attrazione importante, il fatto che Venezia sia a un'ora di treno, Roma a due ore di treno, è un elemento che può costituire un vantaggio rispetto a chi sta competendo con Milano in questo momento. Sì, l'elemento turistico anche di Milano, Milano sta diventando anche una città di grossa attrazione turistica, stiamo scoprendo che è uno degli elementi di vantaggio ma diciamo l'insieme dei fattori di Milano, la qualità della vita di Milano che è buona a livello europeo e di buon livello e quindi questo, assieme all'elemento turistico, assieme ai elementi culturali, assieme al fatto che questa città è una città che dà dei servizi europei, è una città anche un'unica città un po' bilingua con le altre città italiane, questa serie di elementi possono attirare queste banche. È necessario far sì che però si migliori a livelli di ancora più di servizi, a livelli di offerta complessiva, proprio perché i competitor sono molto importanti, in cominciare da Francoforte, dove esiste un grande livello di servizi finanziari.